Ecco, siamo proprio in un appartamento di via Rossini. Qual è la vostra preoccupazione in merito ai lavori poi che verranno effettuati sulla ferrovia, la tratta che chiamano del retroporto del Campasso? Allora, noi qua siamo una zona via Rossini, via Canepari, ma soprattutto via Rossini, dove ci sono appartamenti, palazzi costruiti intorno al 1900. Quindi secondo le linee architettoniche di quel periodo non prevedevano le fondamenti del cemento armato perché non esisteva ancora il cemento armato. Quindi queste case qui poggiano direttamente i muri maestri sul terreno e le solette che dividono un appartamento all'altro sono formate dal cosiddetto canneto, cioè sono tavole con canne. E quindi qualsiasi tipo di vibrazione che viene provocata o dalla strada, lato via Rossini o ferrovia, quindi l'altro lato, provoca delle vibrazioni. Tant'è vero che gli appartamenti che non hanno subito ristrutturazioni e che ancora mantengono questo tipo di tipologia di costruzione presentano delle crepe per il passaggio degli autobus, specialmente quando in via Rossini passa l'autobus numero 7 che è un articolato che è formato da due carrozze e vibra, si sente proprio il vibrato, specialmente di notte. E quindi la nostra preoccupazione è che le attrezzature che utilizzeranno per consolidare il terreno, per mettere i binari eccetera, possano provocare dei danni alla struttura e non soltanto per quanto riguarda la dinamicità degli edifici, ma anche per quanto riguarda polvere, rumore e inquinamento acustico. Quindi tutte cose che noi non sappiamo ancora che cosa ci potrà accadere perché non abbiamo ancora avuto informazioni né da RFI né dal Comune né quant'altro meno dalla Regione. Quindi questa è la nostra paura. Ecco perché RFI non ha ancora fatto sopralluoghi qui negli appartamenti, nessuno vi ha chiesto nulla? Nessuno ci ha chiesto nulla, nessuno è venuto e quindi noi viviamo in una situazione abbastanza così di ansia perché non conosciamo il nostro futuro. Tra l'altro sono appartamenti questi qua che per chi come me per esempio che l'abbiamo ristrutturato eccetera, ci abbiamo anche investito. Cioè il valore di questi appartamenti con queste infrastrutture sicuramente subirà perché sono infrastrutture che non servono a noi come delegazione. Noi diventiamo una servitù di passaggio rispetto a interessi diversi dai nostri del quartiere perché riguarderanno appunto il transito di merci. Merci di cui tra l'altro sconosciamo il contenuto e infatti nell'esposto che abbiamo presentato abbiamo anche citato il caso di Viareggio per esempio. Perché noi non sappiamo se dovesse succedere un disastro ferroviario, un'esplosione, qualcosa, a pochi metri di distanza dagli edifici le conseguenze che potrebbero esserci anche per la nostra incolumità fisica, proprio personale diciamo. Le vostre perplessità riguardano anche il fatto che voi non avete comunque tutele neanche in fase di cantiere, cioè la questione dei rumori ad esempio. Anche qui voi non sapete nulla, nessuno vi ha detto nulla? Assolutamente, noi non siamo stati contattati, non siamo stati informati se non grazie, quelle poche notizie che abbiamo le abbiamo grazie al comitato di Certosa che con riunioni, con assemblee ci tiene costantemente informati delle notizie che loro ricevono in qualche maniera quasi a carpire all'organizzazione comunale del RFI perché comunicazioni ufficiali di questi enti almeno noi non ne abbiamo, non sappiamo. Quindi in teoria voi non avete al momento nessuna mitigazione delle opere di cantiere, niente? Esattamente, non abbiamo proprio nulla, non sappiamo nulla. Viviamo quindi in una situazione limbica perché non abbiamo certezza. Mentre sui primi piani espropriati che fine faranno? Avete notizia in questo senso? Allora, l'unica notizia che ho è perché ho letto un articolo, un'intervista che ha rilasciato il sindaco Bucci dove appunto indicava che gli appartamenti e i locali che verranno espropriati dal comune per poter realizzare queste opere verranno utilizzati in parte per uffici comunali ma per la maggior parte degli appartamenti per alloggi per studenti o per le persone che sono in attesa di case popolari, di alloggi. Le tenga presente che è un palazzo tranquillo, siamo tutti professionisti, gente che è in pensione, eccetera. Quindi non sapere neanche poi chi fisicamente occuperà questi alloggi ci crea ulteriore disagio perché va in qualche maniera a rompere una tranquillità condominiale che ci siamo creati, che negli anni anche perché ognuno di noi poi ha cercato di abbellire la propria casa, di renderla più confracente. Quindi sapere che poi ci sarà un via vai di gente e non sappiamo chi potrà venirci crea ulteriormente disagio e sicuramente sarà motivo di depreciamento per il palazzo intero.